e non c'ho immagini, non c'ho niente non c'ho perchè l'altro si è verificato un problema con i server strozzo, questo picker non te lo aprirai ho capito ah no, non mi ha salvato l'immagine mi ha salvato, ma vaffa mi ha messo a rotta il cazzo, mi apro così niente, non mi apre, non mi ha vuole salvare questa immagine, eh, non si può senti, che c'ho sul computer da poter buttare? fammi vedeva forse qualcosina ce l'ho ammassa che sozzeria base, duono, questo, quest'altro che è a Navarro, Raul e Dalglish mamma mia beccate sti brasiliani, va, meno male ah, è il picchiettino questo oh ma che è successo SharePlay? capo, ma è tutto ma è tutto blocchiato ma è tutto bloccato Gabri, mi è stato toccato a riappi a sto Share ah, ho trovato una bacia dal pick e' a moda qua cam bel tuono troppo va che blank vabbè, blank è ancora ancora decente non so a fare doppio picchettino vediamo uno punto scambio di PSN ben vita a me a me ti posso dire gran bella carta forte ancora da meno bella ragazzi vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli AFC24 scontati veloci e sicuri vi lascio il link in descrizione con il codice sconto Yoshi quindi mi raccomando fatene ovviamente buon uso e in maniera intelligente io vi do un bacione e ciao che mio trovo Dalglish Cannavaro e Raul preso Dalglish tanto per beccata ma dove questo sai che ne è scarso per niente se no se no Prince per l'overall o Prince per l'overall o Sanchez carta secondo me ma SS c'ho pure qualche altro ruolo pure CAC ah dottorale no ma DC ho già Lusi e Ferdinand può pure giocare la Cdc secondo me a Renard difensiva ma c'è play 7 passaggi è bella carta pure in vertiro casiglia scambia le berkamp mamma mia comunque io ti direi rallentiamo un minimo la velocità del picchicona quando si apre c'è un po' più de suspense un po' più de godimento cazzo manca il tempo dei click a X che già si sono aperti tutti e tre che ne so ne apri uno poi si apre l'altro e poi si apre quello dopo l'animazione è pure dei 10 secondi 3 secondi a pic ma c'è il pic oh ma scritto pic ho cliccato ah ok penso stessa privacchia ho fatto come digno tuono ora ho trovato io lo troviamo adesso ecco il tuono beh comunque il tuono dopo Puskas powershot finesse razzo rapido primo controllo talento dopo Ronaldinho lui si porta a casa un bel Puskas 94 ho capito eh non ho guardato dove ho fatto il confronto a prezzo tanto sta un milione e mezzo me ne rotti poi per il resto più o meno ci abbiamo tutto dell'am beh sto Raul non è brutto R1 razzo finesse sovero belle stazio 4-5 guarda che sì 0 è molto simpatico l'hosturing stream ovviamente sì in una prolunga enorme attaccata 300k eh 3 milioni quant'è secondo me c'è stato tutto sì assolutamente vabbè dai Müller 94 99 di tiro a bomba col finestra rapido poi che c'è va a vedere un po' vabbè dai simpatico ovviamente se lo buttano dentro un builder devo essere sincero non è male 4-5 quel quel bel trubaio non me ne buttò godo zirula ma come è il pick col doppio casillas ma che furti ma dai ma sta a fare il pick ma è il tuo casillas vabbè ma manca a fare così per carità uno pure è buono però vuole il 90 anzi vuole richerne vabbè direi direi casillas matti 40 andiamo un po' le distanze 4-5 diventa ma manco brutto ma com'è in game e a me non si è un po' più fata perché aveva il playstyle quello decrescita improvvisa shirer skull e ovviamente skulls e poi riberi che deve essere doppione non scambiabile è uno buono quel cazzo shirer è un coglione purtroppo skulls è ancora più coglione di lui ma almeno shirer è il 91 che devi fare apriamo così apriamo guardavo un pezzettino chi è? oh guarda che campione però è eh insomma mamma mia il grande ronald mcdonald cooman 94 di forza 93 di testa 83 ma che è cooman 2 ah la prince ah è pure 92 ho capito oh ma che è butrachegno di nuovo ma porco dio ma che è mandato butrachegno doppione vabbè 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 pio prince che cazzo devo pia butrachegno già ce l'ho vabbè un bear 92 dove sta mettere dentro in build è visto che culo mamma mia merda sti picchi prima ma porterà fortuna adesso chiudo l'occhietto ok abbiamo visto aspetta for me mettere il pad tra le palle in modo che riesca a vedere allora fisichetto pazzo dribbling un po' me forte di testa passaggio storto grande tiro un grande finalizzatore una bella carta un bel runei mmm 77 di forza 87 resistenza poca precisione di testa dribbling assurdo bel passaggio enzi grazie v5 bentornato sei solo un pupazzo sei il mio pupazzo il pupazzo della chat sono tornato più forte di prima aspettavo questo giorno per rendere pubbliche tutte le botte che mi hai dato tutti gli insulti mi fa schifo puu oh ma questo è buono figo 90 adesso ci ho fatto perdere una supercoppa il grande figo 90 94 di testa poca elevazione bel dribbling e il passaggio tutto storto vabbè stai un coglione infatti è l'inegar mi sa che è win però oh 1 o mezzo visto però no ho capito chi è però è difensore allora per coglione di eh ma sta manca il centurione al base dei zanetti manco malissimo poco passaggio tanto dribbling adesso eh beh George best dai vabbè best ne è male dai carino pur a Billy ne è male non è un brutto pick si è fatto il toti la vecchietta devo dire eh ma immaginavo figo grazie per bits no mi sono sbagliato dio cane ma come cazzo è possibile che su 50 pacchi tra cui 10 10 83 più 10 584 più e un 20 83 più 3 87 più non si trova manco un toti pezzi merda truffatori porco dio in tribunale vi voglio vedere a fallire non è che c'è tutti i toti vabbè 94 ti sei ripagato il builder eh mi mamma ti sei ripagato con ертвoscambio le dados il la e bene